Ciao a tutti, oggi prepareremo le lasagne, pistacchi e mortadella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono latte, burro, farina, sale, pepe, noce moscata, lasagne, mortadella, scamorza affumicata a fettine, pesto di pistacchi, granella di pistacchi e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1, aggiungere il latte, la farina, il sale, il pepe, la noce moscata. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità a 4. Aggiungere il pesto di pistacchi ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. La besciamella è pronta a comporre la lasagna. Distribuire uno strato leggero di besciamella al pistacchio sul fondo della pirofila. Mettere le lasagne. Un altro strato di besciamella. La scamorza affumicata. la mortadella. Il parmigiano. E un po' di granella di pistacchi. E proseguire così fino alla fine degli ingredienti. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Le lasagne sono cotte. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire. Lasagne, pistacchio e mortadella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.